Cari telespettatori, eccoci nel nostro consueto spazio, come vi dicevo, di approfondimento con lo SPCGL, questa volta Belluno. Andiamo a Belluno, scopriamo cosa fa, quali sono le iniziative, quali sono le peculiarità con Maria Rita Gentili, segretaria generale SPCGL Belluno. Ben arrivata qui con noi. Allora, segretaria, cominciamo subito a inquadrare. La zona del Bellunese, per quel che riguarda i pensionati, dello SPI o in genere i pensionati, che caratteristiche presenta? Lo chiedo perché sappiamo che siamo in una zona un po' particolare. Sì, lo SPI di Belluno si caratterizza, che è inserito in un territorio il più vasto della regione Veneto ed è un territorio montuoso. La difficoltà che incontriamo come SPI, la difficoltà o comunque tutto l'impegno che dobbiamo metterci e che ci mettiamo è quello di raggiungere i nostri pensionati, proprio perché i luoghi e i comuni sono tanti e le distanze sono notevoli e impervi. Noi però a Belluno abbiamo 36 recapiti, punti di, che io non definirei più recapiti, ma sono proprio dei segretariati sociali. Quindi vuol dire che nel territorio bellunese avete 36 punti di aggregazione, di incontro, di risposta. Forse la parola giusta è di risposta. Sono 44 le permanenze che riusciamo comunque a fare nella settimana. Quello che, così voglio dire, è che chi arriva nei nostri punti di incontro viene preso in carico. Non è un punto di così recupero delle pratiche, o comunque della documentazione, ma è proprio un'elaborazione poi che viene sul posto per quanto riguarda sia i diritti inespressi, per quanto riguarda tutte le pratiche assistenziali, assistenziali e questo fa sì che sia, secondo anche proprio l'utenza, un servizio di eccellenza per quanto riguarda l'approccio, anche se non dovrei essere io a dirlo, ma lo dico proprio per i miei collaboratori che sono veramente in gamba. Cosa vuol dire presa in carico? Sì, la presa in carico vuol dire che, allora, per quanto riguarda, diciamo, sia le pratiche di cui ho detto prima, vengono così elaborate nella sede, ma è anche il fatto che la presa in carico vuol dire che se un cittadino, soprattutto un anziano, arriva nei nostri punti e così denota, così anche denuncia una non conformità nei servizi, noi possiamo comunque raccogliere il suo atto e poter, tramite dei protocolli che abbiamo, anche per esempio con l'ULS numero 1, possiamo poi, così nei modi definiti dal protocollo, portare, diciamo, avanti questo suo tipo di problematica, di criticità che ha esposto. E questo credo sia uno dei punti di forza dello SPI di Belluno. Quali sono un po' le problematiche che incontrate più di frequente, che i cittadini vi presentano e quali invece non si presentano ma dovrebbero presentarsi perché voi sapete che esistono sul territorio? Se andiamo a pensare, allora, quelle problematiche che arrivano sono, parlo per esempio del ruolo sanitario, a volte ci sono delle, arrivano perché hanno, sono state caricate magari delle, dei ticket su delle prestazioni che magari dovevano essere non a pagamento, ma che per disguidi o per mancata, mancata così, espressione da parte dei medici nella, nell'impegna attiva, a volte succede che ci sia questo problema che devono pagare magari un ticket che dovrebbero essere stati esenti. Ah, addirittura. Ecco, tutto questo, questo tipo di, che succede spesso e a volte diciamo, se così riusciamo a mettersi in contatto, ci mettiamo in contatto noi, magari hanno una, diciamo, un aiuto nel arrivare, diciamo, a definire la pratica. E cose invece non chiedono ma dovrebbero chiedere? Perché non ne sono ancora? Quello che secondo noi non chiedono è, sono secondo me le famiglie anziane che hanno bisogno di assistenza. Io da quello che riscontro sono molto le famiglie anziane che si accollano dei lavori di cura, anche nell'età oltre i 75 anni, lavoro di cura pesanti e lo fanno soprattutto le donne in un rigoroso silenzio, mentre dovrebbero così essere, chiedere e riuscire a coinvolgere l'assistenza domiciliare molto di più di quello che avviene adesso. L'assistenza domiciliare quindi è possibile per le persone che non sono autosufficienti? Qual è l'iter che deve essere fatto e voi che contributo potete dare per questo? Cioè, ad esempio, ci ascolta magari una famiglia, una signora che ha il marito non autosufficiente o la figlia che ha i genitori nella zona del Berlunese e dice, ah, non sapevo che potevo chiedere un aiuto. Cosa devo fare? Voi che cosa fate? Qual è l'iter? L'iter per quanto riguarda soprattutto l'assistenza domiciliare è quella di rivolgersi al servizio di assistenza sociale che è all'interno dei comuni, ma il fatto che possano venire da noi, che noi possiamo dare l'indicazione di qua al comune e di qua all'ufficio è già, diciamo, secondo me una cosa molto importante e soprattutto mettere al corrente che è fattibile avere un aiuto se ci sono i presupposti. Quali possono essere dei presupposti? È necessaria la non autosufficienza? Chi la certifica? Sì, allora, c'è ovviamente sempre una certificazione medica e di questo non sono delle cose che poi l'assistente sociale, il servizio sociale fa in maniera di mettere in atto. ma quali sono? Sono per esempio quei lavori, oppure sono proprio quei bisogni, per esempio, o dell'aiuto per così anche accompagnare un pochino, diciamo, la persona che è in carico, che magari è entrata pian piano nella non autosufficienza, però alla fine diventa un lavoro pesante sia nell'aiuto delle pratiche quotidiane per quanto riguarda il proprio congiunto e poi per quanto riguarda invece magari anche la fornitura di un pasto, un pasto caldo a mezzogiorno che magari evita magari anche il dover essere magari tutti i giorni anche in casa preparare e fare. Esatto, ci sono tanti comuni che sono un po' isolati nella zona, che hanno anche difficoltà, ci sono difficoltà logistiche per raggiungere soprattutto per persone anziane, possono essere serviti da questo servizio? Sì, perché tutti i comuni hanno il servizio dell'assistenza domiciliare, sì. Quindi anche quelli più... Anche quelli più roccati, anche quelli con meno densità di abitanti, tutti li hanno, sì. È un servizio che è, diciamo, previsto dalle leggi regionali, per cui non è... Si sono trovate difficoltà persone anziane dopo a seguito di quello che è successo con il disastro di varia? Sì, sono moltissime. Adesso proprio l'ufficio del... Tutti gli uffici, tutti i recapiti dell'ospi di Belluno si stanno adoperando adesso, che il Fondo Welfare sta così cercando di definire le pratiche e di dare il contributo alle famiglie e in questo iter c'è appunto c'è un passaggio di, c'è così, un bisogno di documentazione e una documentazione soprattutto anche l'ISE e sono invitati proprio dai comuni a passare nei nostri uffici per la semplificazione, diciamo, della pratica. Ah, per la semplificazione della pratica. Quindi siete anche esperti in questo senso? Sì. Perché non è facile, insomma? Poi la pratica viene definita da parte di un comitato tecnico, diciamo, della provincia. Però deve essere predisposta. Però è la semplificazione nei confronti dell'utente. Rispetto alle pensioni nelle altre province regionali, come sono messi? Sì, allora, le pensioni della... Sì, lei parla dell'assegno pensionistico dei bellunesi, è il uno fra i più bassi del Veneto, segue Rovigo. Dopo, no, no, prima c'è Rovigo, poi c'è Belluno. Sono delle... Ecco, sono delle... È una criticità che abbiamo e vediamo soprattutto le donne che hanno degli assegni molto bassi sui 620 euro mensili rispetto ai 1.328 degli uomini. Quello che segnalo anche per quanto riguarda i pensionati bellunesi, che mi fa veramente sempre che... Così chiedo a tutti di passare poi negli uffici per vedere se è possibile avere delle maggiorazioni anche. Ma è il fatto che molte, molte sono le donne che non hanno l'assegno pensionistico. E non avere un'autonomia economica ci rende moneo libere. Neanche se l'hanno. No, perché se uno non ha i versamenti, diciamo, dei 15 o di 20 anni, non può avere la minima, se nel momento in cui... Poi, non puoi avere magari l'assegno sociale perché il reddito familiare risulta, diciamo, non sufficiente, diciamo così per... È un grosso problema. È un grosso problema e proprio perché, come dico, non avere un'autonomia economica ci rende un po' più succubile nella vita, diciamo, nella vita privata. Purtroppo non mi si conto che è andato di fatto. Nel punto di vista invece di assistenza sanitaria? Nel punto di vista dell'assistenza sanitaria, quello che stiamo adesso appunto tutti quanti così... Dichiarando il fatto che sono state rese note anche le schede ospedaliere, oltre al piano socio-sanitario regionale che è partito alla fine dell'anno, del 2018, le schede ospedaliere che vanno a coronare questo piano socio-sanitario, alla fine vediamo che hanno provocato nel bellunese la maggior parte in percentuale di taglio dei posti letto, i posti letto che sono diminuiti soprattutto nella parte chirurgica, sono aumentati dei posti letto nelle aree, nelle strutture private e questo insomma ci preoccupa molto il sindacato, preoccupa molto anche il fatto che il piano socio-sanitario recita di solito meno ospedale e più territorio, qui abbiamo meno ospedale e meno territorio, o meno territorio perché le medicine di gruppo integrate sono ormai diciamo alla fine della loro sperimentazione, verranno tagliate, verranno sostituite con dei team multiprofessionali di cui non capiamo cosa saranno queste, come in cosa consisteranno e se tagliano i posti letto e tolgono anche diciamo le eccellenze che c'erano sul territorio, possiamo dire veramente che non siamo diciamo contenti, no. E case di riposo invece? Case di riposo, le strutture all'interno della provincia di Belluno sono tante e quello che andiamo a dire comunque sono le rette che sono diciamo, non sono elevatissime nei confronti diciamo anche delle altre province, non è questo che voglio dire, ma comunque avere un anziano in casa di riposo per una famiglia vuol dire comunque diventare più povero, si impoverisse la famiglia perché avendo pensioni basse non possiamo avere naturalmente il modo di coprire diciamo tutta la retta, deve essere la famiglia che partecipa e questo vediamo insomma che sta impoverendo un po' la società. Assolutamente, c'è stato ricorso importante a 400, il pensionamento anticipato? Anche a Belluno c'è stata una grande partecipazione, tante domande, guardi su 253 domande che sono state fatte di pensioni, pensioni diciamo di vecchiaia, per cui chi ha finito, sono usciti con la legge Fornero, 98, 110 sono le domande che sono state fatte proprio per la quota 100, altre pensioni sono state 12 mi sembra, sono quelle delle persone che hanno fatto domanda per l'opzione donna. Ah, quindi per l'opzione donna è abbastanza penalizzante? È una delle pensioni più penalizzanti, è proprio una, secondo me è una pensione, è un metodo un po' da capestro perché non è possibile insomma che per poter stare a casa, che poi in genere le donne hanno bisogno di stare a casa perché c'è bisogno in famiglia e hai una penalizzazione così forte per tutta la vita poi. Eh, forse questo è anche un concetto che deve essere trasmesso, fatto capire, se non c'è la percezione chiara. No, no, noi lo diciamo sempre che l'opzione donna è proprio una pensione anticipata, anche questa come può essere quella dei laboratori precoci, però qui c'è un taglio che non è, è troppo elevato rispetto diciamo alla... Quindi dopo se ne subiscono le conseguenze perché non si può più tornare indietro sostanzialmente. Voi vi occupate come tutte le sedi spie anche dei giovani, a livello occupazionale com'è migliorato? Ci sono giovani, c'è un po' uno fuggire da queste zone? Allora noi, la grande criticità del nostro territorio è anche il rapido spopolamento della provincia e pertanto questo ci rende poveri di giovani. Per quanto riguarda l'occupazione, posso dire che la disoccupazione non è elevata, ma... Quindi è migliorata la situazione. È migliorata la situazione, ma abbiamo... Delle situazioni critiche. Sì, esatto, ci sono comunque delle situazioni critiche e quello che a noi così preoccupa e tutto quello che abbiamo messo in piedi come sindacato fino adesso, questo è proprio il fatto di far rimanere la popolazione nel nostro territorio, che i giovani siano sia incentivati ad uscire a studiare e laurearsi e così anche delle esperienze all'estero, ma che tornino. E su questo noi abbiamo messo in piedi tutto il progetto del welfare di identità territoriale che consiste in non aver così formulato un fondo, un fondo economico, un fondo a rotazione che viene continuamente ripolvato, la parola giusta per esempio, e che alla fine verrà distribuito proprio alle famiglie bellunesi che nei momenti più critici, nelle fasi più critiche della vita, per esempio al momento della nascita del bambino, al momento della scuola, nei trasporti, al momento dalla scuola a casa, ma anche quando appunto per l'università, un aiuto ai corsi universitari, un aiuto poi che potrà essere anche a fondo perduto, e nel momento in cui rientrano nel territorio. Questa è la struttura ovviamente delle carte anche di aiuto, tipo la carta argento, che possono essere date agli anziani dopo i 70 anni per raggiungere facilmente anche dei luoghi di cultura, tipo i teatri, tipo i cinema. Esistono già queste cose? Esistono già, quindi basta chiederle. Queste stanno, il fondo è stato creato, il comitato del fondo welfare c'è, solo che in questo periodo è stato utilizzato proprio per quello che dicevo prima, per il fondo, per i danni da maltempo. Quindi erano intanto danni da maltempo, dopo si ristrutturerà per altre cose di servizio. In parte adesso con il mese di maggio, per quanto riguarda proprio questa opera di antispopolamento della montagna. Benissimo. Allora, detto questo, vi abbiamo informato su tutte le attività che sono importantissime che vengono svolte nel territorio belunese. Ringraziamo la nostra ospite esperta dello Spicigielle di Belluno. A voi naturalmente buon proseguimento. Dopo la pubblicità, ritorniamo in studio e affrontiamo un altro tema. Grazie, grazie anche a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.